Buongiorno Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra segna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano la nostra Udinese, Udinese, che questo pomeriggio affronterà il Milan a San Siro. Allora andiamo con ordine, andiamo per gradi, partiamo come al solito dal messaggero Veneto che apre con Udinese. Prova a fare il diavolo a quattro, non perde da due gare ma non vince da un mese. Oggi almeno tre ballottaggi fino all'ultima ora. Questa è anche la probabile formazione ipotizzata dal messaggero. Partiamo chiaramente da noi, schieriamo Carnesi si importa, Felipe, Danilo ed Ertò, Fernandez, Lodi e Badu a centrocampo. Sulle fasce dovrebbero tornare Edenilson e Widmer davanti, Terò e Zapata. Ma chiaramente c'è il ballottaggio che riguarda Pablo Armeno proprio sulla fascia sinistra e anche qui a centrocampo. Non siamo sicuri che potrebbe essere effettivamente questa la scelta di mister Collantuono. Non c'è praticamente nessun giocatore appena arrivato dal mercato e anche qui bisogna attendere probabilmente l'orario della gara per sciogliere alcuni dubbi. Il Milan risponde con Donnarumma, Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli, Cucca, Montolivo, Bertolacci e Onda, Niang e Bacca. Milan che va praticamente sul sicuro. Milan che sta utilizzando la stessa formazione da diverse giornate. Non c'è Jack Buonaventura e questa è un'assenza che presumibilmente si farà sentire al suo posto schierato, Bertolacci. Leggiamo anche l'incipit dell'articolo a firma di Pietro Leotto. C'è il Milan. È il momento di dare i numeri. L'udinese non è più nel tunnel della crisi nera. Tre sconfitte di fila a gennaio. Ma si è presa solo un paio di aspirine con Lazio ed Empoli sotto forma di pareggi. Gian Paolo Pozzo li chiama Brodini, forse o anche, per far capire che la consistenza dell'annata non è quella desiderata. Una sostanza. Non vince da un mese. L'ultima volta era il giorno della Befana e la calza bianconera finì l'Atalanta. Gli avversari. Il Milan viene da 11 punti in cinque partite. Poi ancora la squadra dei Miali, dove c'è quella di Colantono sulla bilancia, finisce 11-2 nell'ultimo mese. Il bilancio dei punti. Favore del pronostico a favore dei rossionieri, direbbe la bombastica Barbara Predotti, annunciando in tv le quote dei bookmakers. C'è anche questa digressione simpatica da parte di Pietro Leotto, che effettivamente sottolinea le generose forme di Barbara Predotti. Ma torniamo ancora ad analizzare altri aspetti di questa pagina del messaggero. In taglio basso ci sono le curiosità. I due colpi del cola in casa del Milan. Stefano Colantono ha espugnato due volte il meazza rosso-nero, guidando sempre l'Atalanta e vincendo sempre per 1-0. Fu così la scorsa stagione e anche nel 2012-2013. In addontare che nel bilancio personale del tecnico bianconero non ci sono paregge col Milan, ma cinque vittorie e sei sconfitte. Ci sono poi anche gli ex di turno, che nella fattispecie sono Pablo Armero e Cristian Zapata. Scorrendo invece l'album della storia troviamo Biroff, campione d'Italia col Milan, ma straordinario interprete dell'area di rigore con l'Udinese. Anche lui è passato dall'Udinese al Milan e poi anche il povero Stefano Borgonovo dal 93 al 94, dal 95 al 96 in Friuli e da Giovanni Stroppa dal 95 al 97. Andiamo adesso a leggere quello che riguarda le parole di Colantono. La pagina 52 del messaggero Veneto è dedicata proprio alla conferenza stampa del mister che ieri ha caricato la squadra. Ce la giocheremo contro il pronostico. È un messaggio a Miajlovic? No, alla mia squadra. E poi lancio Armero e perdona Danilo. Sta bene, gioca. Ora io direi di andare proprio ad ascoltare le parole di mister Colantono ieri in conferenza stampa, come al solito una nostra esclusiva, un'esclusiva di Udinese TV. Mister molto carico, eccolo qui. Io immagino che ci sarà turnover, ma Zapata che ha fatto due gare in quattro giorni farà anche la terza? Eh, ora vediamo. Sono valutazioni che sto facendo perché la squadra si è riunita insieme stamattina perché fino a ieri abbiamo fatto del lavoro differenziato con quelli che avevano giocato e quelli che avevano giocato meno. È una considerazione da non scartare perché Zapata viene da due partite giocate dall'inizio e ha avuto un processo di crescita. Insomma, per quello che riguarda il minutaggio gestito bene, ora non vorremmo fare degli errori per cui c'è da valutare bene un po' di cosettine. Ecco, mi sta parlando un po' dell'atteggiamento, no? Noi affrontiamo il Milan che gioca un 4-4-2 e che poi sfocia in un 4-2-4 perché ha due esterni molto aggressivi. Quale è Onda e Jack Buonaventura che tu conosci molto bene perché l'ha lanciato Osso, dovessi giocare Boateng. Cosa dovranno fare i nostri due esterni per non farsi schiacciare in terza linea? Ma guarda, questo sistema di gioco ti costringe il gioco forza ad abbassarti un pochino perché giocano con due esterni offensivi e due attaccanti quindi i quinti saranno obbligati ad abbassarsi. Ma questo ci sta. L'importante è che poi quando riconquisti palla devi avere poi la forza di riproporti perché nel calcio ci sono due fasi e oggigiorno nessuna squadra fa le due fasi senza l'aiuto anche degli attaccanti per esempio. Tutti lo fanno perché il calcio sennò diventa molto difficile. Devi essere bravo a compattarti quando ci sarà da compattarti perché tra le altre cose incontriamo il Milan probabilmente nel momento migliore di forma di tutta la storia del campionato di quest'anno. Ora stanno veramente bene, hanno entusiasmo, hanno vinto il derby, è una squadra forte, lo era già prima ma magari con qualche difficoltà. Ora vanno proprio forte, ho visto la partita col Palermo, hanno giocato benissimo. È una squadra molto importante. E quindi ci sarà probabilmente anche da contenere però deve esserci anche poi il discorso di offendere. E la cosa che noi abbiamo fatto meno a Empoli è stata questa. Insomma ci siamo difesi ok però dobbiamo anche offendere di più perché poi alla lunga comunque il gol lo prendi lo stesso. Perché anche se ti difendi a oltranza alla fine secondo me è difficile poi non... È raro, o quantomeno è raro che riesci a portare a casa poi il risultato. Queste dunque le parole di Stefano Colantono. Andiamo ancora ad analizzare qualcos'altro. Un girone fa ci fu la svolta, da quel secondo tempo siamo cresciuti. Finì 3-0 la prima frazione di Udinese-Milan, 0-3 nel secondo. Due reti da parte dei bianconeri, Sigrata e Zapata e Badu. Purtroppo non furono sufficienti per rimontare il Milan ma comunque diedero slancio alla formazione di Colantono. Si diceva di Armero, è stata fatta chiaramente una precisa domanda sul possibile impiego di Armero dal primo minuto. L'unico dubbio è la sua condizione, ha detto mister Colantono. Stiamo valutando quindi può darsi di sì ma non ha i 90 minuti nelle gambe. È pronto a rientrare anche Danilo dopo due espulsioni consecutive. Non credo che abbia un momento delicato e dico sempre che bisogna stare calmi e tranquilli. Ma con la Juve ha sbagliato valutazione dell'intervento, mentre con la Lazio più che il secondo fallo è stato ingenuo sul primo. Infine poi all'andata l'Udinese regalò un tempo al Milan. Quanto è cambiata allora la sua squadra? Siamo proprio maturati da quella gara. Poi abbiamo fatto un passo falso nell'approccio con Carpi e Palermo. La musica poi è cambiata anche se mercoledì a Empoli ci siamo chiusi un po' troppo nella ripresa. I tifosi al seguito saranno 250, solo 250 i cuori bianconeri, scrive il messaggero. A differenza degli altri anni la trasferta a San Siro non fa il pienone. Al seguito della squadra come sempre ci saranno oggi anche gli Ultras che viaggeranno prevalentemente in bus e alcuni pulmini, furgoni e automobili di tifosi sparsi che hanno scelto di fare una gita in libertà. Insomma dovranno urlare per farsi sentire ma i tifosi bianconeri a casa del diavolo ci saranno. E questo è sicuramente una bella notizia. A proposito di diavolo ho parlato anche di Sisa Mijalovic che sostiene la necessità di continuare a vincere per il suo Milan ma questo pomeriggio dovrà rinunciare a Buonaventura e quindi ridisegnare il centrocampo. Giocare tre partite in una settimana è sempre difficile, sarà una gara insidiosa. Loro giocano meglio fuori casa ma dipenderà tutto da noi. Vogliamo vincere per fare tre vittorie di file, è successo solo una volta in questo campionato e quindi vogliamo eguagliare e migliorare questo record. La squadra ha grande voglia di continuare a vincere perché vincere è bello ma continuare a vincere è difficile. C'è un utilizzo del verbo vincere all'infinito davvero esagerato. Poi la primavera, apriamo l'argomento primavera perché ieri si è giocato con il Chievo Verona. Chievo Verona che nei piani alti della classifica, la formazione di Mattiussi ha fatto una grande gara, ha colpito due traverse e meritava sicuramente qualcosina in più, purtroppo è finita 0-0. Allora io direi di rilassarci un attimo e di riguardare insieme la sintesi della gara di ieri. Il capitano Magnino si scambia un cenno d'intesa con l'altro capitano Fabio De Paoli, entrambi con il numero 7, occupa una posizione importante in classifica. È iniziata in questo momento la gara con l'Udinese che inizia ad attaccare. Destro, lungo di Samu a cercare Pertain. La spizzata di Pertain per Carmendia che prova a inserirsi all'alga per Borgobello. Ancora il tocco di Borgobello per Pertain. Ottima però l'uscita di Confente, bellissima azione da parte dell'Udinese. Yeris, ancora l'errore da parte del Chio Verona, recupera palla Joao. Joao va al cross sul secondo pallo dove c'è Carmendia, la mette a terra Nico, può andare al destro, Carmendia la parata di Confente. Sfera che sbatte anche sulla traversa. Fontiscio, la sventagliata per Pertain, il pallone buonissimo per il Croato, grande occasione per l'Udinese, Pertain! Che chiusura da parte di Jack Hale, qui però Pertain doveva velocizzare la manovra. Manzaluio, prutt col sinistro, è l'ultima azione della gara, pallone che finisce fuori. Ci fermiamo qui, 0-0 il primo tempo. E allora ricomincia in questo momento Chio Verona Udinese, si riparte dallo 0-0. L'Udinese che resta comunque alta in pressione offensiva, Giacchele, Carmendia lo anticipa, Carmendia entra in aria di rigore, Carmendia Pertain! Non riesce a trovare la porta, inesima occasione per l'Udinese. Poi è Carmendia, servire subito Borgobello, arriva lo scatto di Carmendia, Borgobello può servirlo, lo fa bene, entra in aria Carmendia, Carmendia, Carmendia si ferma, Carmendia può servire qualcuno, nel mezzo non trova il tocco di Pertain, ancora una volta grande occasione per l'Udinese, che però non è finita, Geromine sul secondo pallo per Pertain! In posizione di offside, si inserisce Francescutti, che trova il break, ancora Francescutti, va da solo, benissimo per Carmendia, situazione pericolosa, ancora Carmendia, prova a liberare il destro, Carmendia può andare al tiro, Carmendia, eccolo qui il destro che sbatte sulla nuca di Sbampato. Avanza Coppolaro, col destro a cercare l'iniziativa di Borgobello, occhio all'errore da parte del Chio Verona, Pertain, cerca il cucchiaio Pertain, Traversa! Traversa clamorosa da parte di Ivan Pertain! Borgobello, lo stacco di Omar, che guadagna anche il possesso del pallone, occhio a Borgobello, occasione potenzialmente pericolosa, poi qui troppo frettoloso Omar Borgobello nel cercare nello spazio Pertain. Coppolaro controlla malino, però ancora Coppolaro, intervento brutto da parte di Coppolaro, che va a prendere un cartellino giallo, che di fatti ci sta, era già munito Coppolaro Rosso. La chiusura di Joao finisce qui. 0-0 tra Odinese e Chio Verona, il tato che secondo me sta assolutamente stretto alla formazione bianconera. Questa dunque è la sintesi della primavera, noi siamo pronti per collegarci con Milano, dove c'è il nostro Stefano Giovanpietro, pronto appunto a raccontarci tutte le ultime relativamente alla gara tra Odinese e Milan, direttamente dal ritiro bianconero. Buongiorno Stefano. Eh sì, buongiorno Fernando. La squadra si è svegliata, insomma si sta svegliando, entro le 8.45 è prevista la sveglia per i ragazzi. Noi siamo qui alla Tautel Expo Executive Fiera di Milano, dove nella hall, in questa bellissima hall, davvero una splendida cornice, un impianto con un migliaio di stanze, ci si perde anche dentro. Ieri qualche difficoltà nei corridoi e tra gli ascensori, però ieri era una bellissima giornata, ci ha colto qui un grande sole, anche una temperatura mite. Oggi guardiamo fuori dalla finestra e c'è praticamente una pioggia molto molto intensa, quindi Milan Udinese, salvo sorprese, si giocherà sotto un'intensa pioggia. Vedremo se influirà o meno su quello che sarà l'esito della partita. Per quanto riguarda il programma, i ragazzi che entro le 9.15 dovranno fare colazione, poi ci sarà alle 11.30, il pranzo con riunione tecnica e spostamento a San Siro, dove noi andremo un po' prima a piazzare i nostri ormeggi, sperando che la pioggia non ci spazi via. Abbiamo visto molti approfondimenti sulla gazzetta, magari quelli li lasciamo a te, anche su quello che potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Armero, proprio un ex rossonero, e allora andiamo ad analizzare anche quelle che sono le tematiche relative a Milan Udinese e sugli altri quotidiani nazionali che abbiamo trovato qui nella Hall, vale a dire il Corriere dello Sport e Tutto Sport, possiamo spostarci sui giornali che parlano proprio di questa sfida tra Milan e Udinese, dando ampio risalto alle parole soprattutto di Sinisa Mihailovic, che ha detto fama e rabbia per fare il tris, perché vincere è bello, continuare a farlo è difficile, la grande massima di Sinisa Mihailovic che vuole la terza vittoria di fila, ricordiamo che la terza vittoria di fila non è una B2E nella stagione del Milan, che soltanto una volta è riuscita a vincere tre volte di seguito, speriamo che non arrivi la seconda. Con l'Udinese sarà una gara insidiosa, tra l'altro Mihailovic che ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi per le parole di stima, ma ha detto state tranquilli, mi ama anche il Presidente. Un'altra notizia importante è che si ferma Bonaventura, non ci sarà non convocato e la cosa non dispiace, sicuramente dispiacerà a Mihailovic. C'è Menes che andrà in panchina, è un gradito ritorno per il Milan, ma Mihailovic ha detto che non sarà di certo il suo primo cambio, quindi lo vedremo forse a gara in corsa, forse il terzo cambio. Menes che nell'ultimo appuntamento a Milano purtroppo è stato mattatore con una doppietta. Poi c'è Balotelli che affida il suo futuro alla rimonta, Balotelli che cercherà insomma di ritrovare quello che può essere un gol, che purtroppo dobbiamo enunciare quelle che sono le statistiche della partita, ha trovato finora in Serie A in questo campionato, soltanto contro l'Udinese proprio nello stadio bianconero. Ci siamo spostati magicamente su tutto sport, che comunque non si concentra più di tanto su tematiche bianconere, ma sulle parole di Mihailovic che ha detto Mario non è pronto, e tutto sport sentenzia Milan. Balotelli non ti serve più perché da Bacca Niang 10 gol in altrettante giornate, Super Mario può tornarsene a Liverpool. Diciamo che l'invito di tutto sport è abbastanza chiaro, Balotelli è il classico personaggio che o lo ami o lo odi, chiaramente nella redazione del quotidiano di Torino non lo amano. Bertolacci tornerà dal primo minuto, perché Buonaventura è KO, ci sottolinea tutto sport anche che Balotelli l'unico gol lo ha segnato proprio contro l'Udinese. Abbiamo poi le formazioni che ricalcano praticamente quelle che già hai letto tu, Fernando, con il messaggero veneto che rilancia anche la Gazzetta, poche novità con il rientro di Danilo a centro campo. Si torna un po' all'antico, non dovrebbero esserci nuovi acquisti, vedremo anche Armero in ballottaggio con Edenilson. Davanti, Itero e Matos, questa è l'unica differenza che dà tutto sport, c'è chi dice Perizza, c'è chi dice Zapata e vedremo, ma anche la candidatura di Matos non va sottovalutata. Per il Milan poche novità con Bertolacci, che giocherà al centro in coppia con Montolivo, Kuzka sulla destra e Honda sulla sinistra. Questo sarà quello che si prevede sulla formazione di Milan Udinese, perché Mijailovic è stato chiaro e tondo come sostituire l'infortunato Bonaventura, aveva varie opzioni, lo spostamento di Kuzka sembra quello più necessario, quello più probabile, perché spostare onda di fascia al momento ha detto potrebbe essere assolutamente un disastro e quindi Mijailovic non vuole cambiare gli equilibri in corsa. Detto questo ti riepilogo velocemente anche quella che è la marcia di avvicinamento, come fatto già in precedenza con la squadra che si sta svegliando, i primi giocatori di solito i più mattinieri, l'Odi e di Natale che a breve faranno capolino per fare colazione, e poi tutti gli altri pronti per fare questa riunione tecnica che sarà particolarmente importante. Ce n'è già stata una ieri sera alle 19.15, poi anche un po' di relax per i giocatori che vogliono dare continuità a questi due pareggi consecutivi. Un terzo risultato utile in un campo difficile come Milano sicuramente sarebbe ben accetto, anche se siamo tutti ben consci di quale siano le difficoltà della partita di questo pomeriggio che seguiremo con tutta la nostra consueta cavalcata di quattro ore sui nostri canali e poi con il tuo altrettanto consueto approfondimento serale. Tutto da Milano, Linette e Fernando. Grazie mille Stefano. Noi torniamo ancora sul messaggero, cambiamo un attimo argomento, parliamo di Bordenone, perché la formazione di Terino ha vinto per 2-0, a questo punto sta cominciando ad ottenere dei risultati davvero importanti anche dal punto di vista della classifica. Eccola qui, nuova big, una notte al secondo posto, Pedersoide e Filippini, gol, Renate, K.O., i tifosi sognano la B. Dovremmo avere anche i gol del Pordenone, allora chiedo alla regia se è possibile vederli. No, non è possibile. Allora andiamo avanti con l'analisi della situazione che riguarda il Pordenone, le parole di Terino, un primo tempo stellare, il tecnico esulta dedicato a chi gioca poco, Tomei imbattuto da 360 minuti, eccola qui la classifica con il Pordenone secondo, praticamente, inzima al Ferraro Pissarò con 37 punti, davvero hanno tutta la legittimità di sognare, i tifosi del Pordenone, un approdo in Serie B. Andiamo adesso sulla Gazzetta dello Sport, Gazzetta dello Sport che apre con Ranieri Rock e Allegri Blues, insomma che non ha vissuto in un igloo nella giornata di ieri, saprà benissimo che il Leicester ha battuto il Manchester City per 3-1 in trasferta, una vittoria che proietta il Leicester sempre più primo in classifica, asfalta il City a Manchester ed è sempre più re il tecnico, I have a dream, chiaramente la grandissima riscossa di Claudio Ranieri, che qui in Italia magari non avrà tantissimi estimatori, ma lì in Inghilterra sta realizzando un vero e proprio miracolo. Allegri Blues, pressing del Chelsea, superato Conte, Max che dice ogni cosa a suo tempo, e oggi a Frosinone la Juve punta su Di Bala, Morata. Il Namoli capolista, Iguain col Carpi, cerca il gol mancante. Ancora poi gli anticipi a Bologna e Marassi, Bernardeschi illude, poi Giac frena la viola, Genoa Lazio senza rete, ma occhio agli infortuni di Pavoletti e Dansaldi. L'Inter a Verona, Icardi caccia al 10 e Contoni si riapre il duello del 2015, Lavezzi invece sembra pronto ad accettare la cena interlontana. La risalita del Milan di figlio in padre, Mia dopo Pier Silvio, all'assalto di Silvio e dell'Udinese. Anche qui insomma vedremo come andrà l'assalto da parte di Zizami Ailovic. Gazzetta che apre proprio con Claudio Ranieri, come vi dicevamo, il divo Claudio, il Leicester di Ranieri, passa pure all'Etihad ed è sempre più leader. I have a dream, ancora una volta, le reti di Vardy e Hutt a decidere la gara. Poi Allegri che sembra pronto ad accettare la panchina del Chelsea per il prossimo anno, London Calling, il Chelsea va in pressing, ogni cosa ha a suo tempo. Io ho un contratto con la Juve fino al 2017, sto bene qui, nel futuro non ha senso discutere ora, si parla di nulla. Allegri che ha vinto due scudetti nel corso della sua carriera, uno con il Milan e uno appunto con la Juventus. L'anno scorso sfiorando anche la vittoria in Champions League. Il Napoli, il Napoli che è la capolista e la Serie A scende in campo quest'oggi, Higuain che va a caccia dell'ultima figurina, il Carpi, pensate un po', è l'unica di A con cui l'argentino è a secco, il Napoli ha bisogno di lui per stare lassù. Una delle difese più battute della Serie A è l'unica squadra alla quale Higuain non ha fatto gol, mentre Varadona avverte in signe, occhio, la 10 è mia e non si tocca. Piberi badisce l'ammirazione per la squadra di Sarri, però sulla sua maglia non transige e credo che tutti i tifosi del Napoli, davvero, non vorrebbero mai più vedere la numero 10 indossata da qualcun altro. Nel mirino c'è i Cardi, occhio all'Inter che scende in campo e lancia match con il Verona, alla ricerca del sorpasso sulla Fiorentina che l'ha pareggiato 0-0 con il Genoa, cerca il decimo gol per se stesso e per l'Euro-Inter, Mauro Icardi, che sembra tornato al centro del progetto Nerazzurro. In Nerazzurro tra l'altro sono 40 le reti realizzate dall'attaccante argentino con la maglia dell'Inter. Chiudiamo con la gara tra Udinese e Milan, appunto, con la situazione che riguarda proprio Paolo Armero, come aveva anticipato Stefano Giovampietro, Armero che, secondo la Gazzetta, è pronto a giocare. Chi si rivede, Armero a San Siro, con l'Antuono, punta sui suoi cross. Eccolo qui, Armero, che è proprio il nostro alla maglia del Milan, proprio l'anno scorso, non ha avuto tantissima fortuna, nella sua parentesi, in rosso-nero. Andiamo adesso sul Corriere dello Sport, Corriere che parla del duello tra Napoli e Juve. Napoli, niente scherzi con il Carpi, Sarri, massima allerta, rischiamo l'osso del collo, Juve avanti tutta, Allegri assalto al Frosinone, calcoli inutili, serve vincere Lazio senza luce, 0-0, il Bologna invece frena. I viola, chiudiamo con Tutto Sport, Tutto Sport che apre con la questione Allegri-Celsi, Allegri scaccia a Conte, il tecnico allontana il Chelsea che ricontatta il CT. Allegri scaccia a Conte, è un titolo un po' ambiguo, però onestamente, perché a quanto pare Allegri scacciando Conte dovrebbe accettare la panchina del Chelsea, Max invece dice sto bene alla Juve, piuttosto concentriamoci sul Frosinone. Club Juve, riflettori sui tifosi di massa, questo onestamente non ci interessa, il Bologna che pareggia con la Fiorentina, alt per la Fiorentina, Genoa e Lazio invece pari nella noia, e poi le conferenze di Spalletti. ora sono uno show Spalletti che sta ridando comunque entusiasmo alla piazza giallorossa. Toro tira fuori la fantasia, il Torino che vuole rialzarsi dopo un periodo un po' di appannamento, può ricontare su Bruno Perez, poi Sarri insiste sui fatturati, e allora il Leicester chiede giustamente Tutto Sport, Leicester che ha fatturati infinitamente inferiori a quelle e le altre squadre di Premier League, alle grandi di Premier League, e poi Mancini stavolta stronca gli arbitri, salta l'incontro. Questa è la situazione per quanto riguarda il calcio italiano, noi chiudiamo qui la nostra segna stampa sportiva, abbiamo analizzato il momento dell'Udinese, vi ricordo velocissimamente che a partire dalle ore 14 ci collegheremo qui su Udinese TV con il nostro prepartita, poi alle 15 seguiremo insieme la gara, e poi chiaramente ampissimo post-gara, post-gara che sarà approfondito anche nel consueto appuntamento dalle 21, alle 22, a me non resta che salutarvi e augurarvi ancora una volta, buongiorno Friuli.